Il Radio Vaticano interrompì su trasmissione il dia di ayer precisamente para dar a conoscere esta noticia del Papa Emerito Benedicto XVI, Asilo Annunzio Scucci. La Radio Vaticana interrompiamo le trasmissioni per annunciare con cordoglio ed emozione che il Papa Emerito è tornato alla casa del padre. La sala stampa vaticana ha annunciato poco fa che la morte è sopravvenuta alle 9.34 nella residenza del monastero Mater Ecclesie che Benedetto XVI, 95enne, aveva scelto come sua residenza dopo la rinuncia al Ministero Petrino avvenuta nel 2013. Lunedì mattina il corpo di Benedetto XVI sarà esposto nella Basilica di San Pietro per il saluto ai fedeli. Grazie a tutti.